Meno 2, oggi è il 20 settembre, praticamente ho l'intervento dopo domani, anzi a quest'ora, visto che sono le 12 e 11 minuti, dopo domani a quest'ora dovrei aver già fatto, finito, a detta del medico, anche tornato a casa, perché devo essere in clinica alle 7 e mezza di mattina, eravamo partiti che doveva essere le 8 e mezza, invece poi l'abbiamo un attimino anticipato, quindi anticipato alle 7 e mezza e il dottore mi ha detto che se tutto va bene, perché andrà tutto bene, andrò a casa già subito dopo l'intervento, quindi a quest'ora dovrei, magari non dico già essere a casa, però sicuramente aver finito. Vabbè, rido ma sono emozionata, mi viene da piangere, veramente, però vabbè, non che mi si scioglie il trucco. Ehm, nulla, ieri sera alla fine per dormire ho deciso di prendere una pastiglietta di valeriana, la verità prima l'ho presa e poi mi sono venuti dubbi se la potessi prendere, anche se sono robe naturali, però il dottore mi aveva detto che dovrebbe evitare tutte le tisane, quindi tutte cose come alle erbe, la valeriana è una cosa naturale, quindi mi viene il dubbio. Vabbè, non la prendo più, non la prendo più. Va bene, ciao! Ciao!